bene piloti bentornati in questa seconda parte del video del SG908 test di volo test lunga distanza prima però volevo farvi vedere una cosa sull'app tornando indietro nella home qui in alto a sinistra abbiamo una rotellina da qui potete impostare la funzione beginner mode quindi per principianti oppure il massimo che 2000 metri in distanza e 120 metri altezza torniamo indietro possiamo fare la calibrazione il settaggio quindi delle camere e di tutto quello che ci serve torniamo indietro e quindi andiamo su start play start play come vedete il drone è pronto per il volo abbiamo 13 satelliti la posizione in latitudine e longitudine quindi avviamo i motori con gli stick in basso e verso l'esterno decollo automatico il bottoncino posteriore eccolo qui ragazzi vedete che bello che il drone ciao ragazzi ora facciamo la classica classico test del posizionamento gps ragazzi guardate com'è fermo è un chiodo guardate ritorna al suo punto riproviamo rascinamolo più lontano lui ritorna al suo punto e si riposiziona con tranquillità ora lo facciamo alzare quindi avviamo il video e andiamo gli stick sono anche precisi guardate io vado piano non c'è bisogno di forzare sugli stick quindi lo alziamo siamo a 20 metri di altezza lo portiamo a 30 metri e vediamo dove arriva vi ricordo sempre la zona dove mi trovo che è bella disturbata lui va noi ce lo portiamo nei campi verdi troviamo il gimbal il gimbal funziona con i tassini posteriore destri naturalmente l'orizzonte mi pare è bello dritto quindi andiamo siamo a potenza 50 per cento siamo ora 80 metri vedete sul display le cd non so se si riesce a vedere 90 metri lui ancora va ogni tanto muovo per vedere se agganciato due agganciato 130 metri le batterie non sono pienamente cariche perché avevo fretta di fare questo video noi proveremo adesso la lunga distanza 240 metri lui ancora va come vedete muovo lo io e il drone reagisce bene 350 metri ragazzi io ho una stabilizzazione sul ritorno di immagine davvero buona ho impostato hd come ritorno di immagine perché il mio telefono me lo consente vediamo dove si trova il drone eccolo lì rispetto a me ritorniamo sulla foto siamo a 525 metri ragazzi vi dico eccezionale eccezionale guardate ancora io manovro benissimo il segnale mi sembra ottimo ancora siamo con una tacca ancora di segnale siamo a 700 metri il drone mi comanda benissimo ritorno di immagine senza scatti proviamo a farlo arrivare al massimo ora il segnale è ritornato come vedete in alta a sinistra su due tacche siamo a 800 metri quasi ragazzi vedete 13 satelliti batteria del drone 3 tacche proviamo col gimbal funziona ancora tutto siamo 861 metri remote control off quindi questo è il limite che raggiunge questo drone facciamo il ritorno a casa automatico ecco lui gira quindi 870 metri in sicurezza ragazzi voglio alzare un po il il gimbal secondo me arrivava anche di più vedete 41 57 di interferenze quindi diciamo che un drone che arriva supera benissimo il chilometro in una zona bella aperta vediamo ora il punto di atterraggio rispetto al punto di decollo ragazzi 908 fantastico ma davvero fantastico ecco qui sta ritornando io ancora non lo vedo sento il rumore eccoli vediamo se si rigira nella posizione di partenza ora piano piano sta centrando la posizione c'è vento in quota naturalmente disattivo il ritorno automatico perché voglio 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 provare a scendere manualmente vediamo come scende manualmente ragazzi guardate nonostante lo stick cut in basso lui scende dolcemente e comunque voglio dire avendo centrato più o meno guardate da un chilometro atterraggio magari l'ho mosso un po io comunque abbiamo circa un metro un metro e mezzo di distanza dal punto di atterraggio ora ridecolliamo facciamo il decollo manuale perfetto voglio provare l'headless mode ora la camera è puntata da quel lato disattiviamo il video quindi attivo l'headless mode quindi ora avanti andrà da quel lato destra sinistra l'headless funziona benissimo disattiviamo l'headless perché questa è una funzione che io non consiglio mai a nessuno di fare proviamo l'atterraggio automatico col pulsantino qui posto le spalle guardate come atterra dolcemente dovrebbe spegnere i motori perfetto ora proveremo le funzioni automatiche ragazzi fantastico davvero fantastico c'è anche vento guardate l'erba quindi abbiamo i motori ci mettiamo a favore di sole allora io mi inquadro vengo un po avanti e adesso attiviamo la funzione seguimi dal radiocomando funzione attivata dove vai lui si allontana e il palo no ecco lui si porta una certa distanza vediamo cosa fa si allontana si lui si allontana vediamo se mi segue si lui gira ma è questo seguimi è un po a scatti vediamo se viene si lui vedete viene piano quindi naturalmente segue una certa distanza quindi la funzione seguimi va benissimo vedete se io ora mi avvicino lui dovrebbe riallontanarsi ecco lui si allontana vedete e si ferma ok quindi disattiviamo la funzione seguimi andiamo a provare la funzione orbit sempre sulla stessa struttura lo portiamo sulla struttura mi dice che ci sono un sacco di interferenze geomagnetiche ok ce l'ho sulla struttura quindi attiviamo l'orbit mode avviamo il video ecco lui si allontana ora si dovrebbe rigirare per prendere la struttura ecco qua è incominciato a girare io posso dovrei poter aumentare il raggio la velocità l'altezza si in alto lo stick aumento il raggio invece verso sinistra aumento la velocità di rotazione un orbit perfetto lo porto un po' più su aumento il raggio guardate ora io sto riprendendo aumentiamo un po' la velocità naturalmente si può impostare in modo orario o anti orario quindi un orbit perfetto batteria che dura tanto siamo già a 13 minuti di volo e abbiamo ancora mezza batteria ora disattiviamo il video disattiviamo la funzione orbit ora lo facciamo venire da noi facciamo abbassare perché voglio provare perché c'è il modo gesture che si pilota su e giù il drone con la mano però se non sbaglio dovremmo attivare l'occhio al flow ok lo abbassiamo vediamo un po' il gimbal eccomi qua allora attiviamo il modo gesture infatti mi dice che bisogna attivare l'optical flow lo proveremo dopo vediamo invece il target il seguimi target anche questo bisogna attivare l'optical flow l'optical flow dovremmo attivarlo tenendo premuto la videocamera mi dice che ci sono un sacco di interferenze geomagnetiche e quindi facciamo il ritorno a casa vediamo ok la stellina è completamente gialla quindi riproveremo l'atterraggio rifacciamo la calibrazione della bussola ecco lui ora scende mettiamo il gimbal tutto giù vediamo dovrebbe riscendere non sul pad perché non è ripartito da sul pad guardate come scende lentamente si posiziona con l'aiuto della camera VPU quindi più o meno eccolo lì ora a terra ecco lì ok quindi cosa vogliamo vedere abbiamo visto tutto quanto vorrei scattare delle foto con lo zoom alziamo innanzitutto il gimbal la batteria ragazzi dura tantissimo siamo a 18 minuti abbiamo i motori decollo automatico vedete lui si porta a una certa altezza poi si rimette basso a circa rimane a 50 cm e mantiene la sua posizione fissa guardate non si muove da lì è perfetto guardate batteria a scarica quindi tiriamo la batteria vediamo quanto arriviamo tanto le funzioni automatiche ragazzi il volo perfettissimo anche gli stick guardate il movimento degli stick preciso voglio vedere se ha la sua barriera virtuale quindi arriva a una certa distanza e poi non va più con batteria a scarica si arriva ai 20 metri lui si ferma con la batteria a scarica guardate io ora lo porto da questo lato a 20 metri da taglio comando lui si ferma siamo 8, 9, 10, 11, 12, 13 guardate si è fermato 20 metri anche la precisione nel centraggio del radiocomando di tutto quanto ragazzi un drone consigliatissimo che potrebbe anche diciamo parificare l'HABSAN la forma ci sta e anche nei contenuti ragazzi abbiamo una batteria che siamo in volo da 19 minuti e 30 secondi io la voglio tirare tutta questa batteria per vedere e voglio aggiustarmi gli stick guardate che precisione negli stick guardate come vola benissimo lo proveremo lo proveremo al 100% guardate come più reattivo al 100% guardate ragazzi cerchiamo di farlo azzare vediamo se si alza se ha anche no in altezza non ha ah sì in altezza invece sempre 20 metri quindi facciamo una foto zoomiamo naturalmente con lo zoom è più difficile inquadrare la sezione facciamo un'altra foto con lo zoom cerchiamo di zoomare no abbiamo zoomato troppo ecco qua questo è lo zoom diciamo massimo e non sono nemmeno sgranate un'altra foto ecco qui quindi noi ora ci divertiamo voglio tirare tutta la batteria naturalmente le altre funzioni automatiche funzioneranno sicuramente visto il drone voglio tirare la batteria per capire queste batterie da 3400 mAh tenendo presente che questo è il primo ciclo poi si stabilizzano dopo 3-4 cicli le batterie quando lui praticamente è a terra perché anche se mi rifare ritorno a casa io lo disabiliterò praticamente siamo a una tacca di batteria ancora e siamo in volo da 22 minuti ragazzi fantastico guardate come si avvesta bello bello davvero questo Kun SG908 questa azienda sta producendo droni fantastici guardate il gimbal guardate ci tengo a precisare guardate il gimbal come reagisce guardate anche sullo yo guardate vedete come reagisce lo gimbal guardate il gimbal guardate su yo sul pitch e sul roll guardate guardate spettacolare ragazzi intanto sta ancora in hovering quindi e io lo sto ecco qui praticamente ora sta facendo il suo ritorno a casa è arrivato di batteria quindi lui si porterà ora a 20 metri noi disattiviamo il ritorno a casa anzi vediamo cosa fa dovrebbe atterrare da solo quindi ragazzi sta atterrando e abbiamo fatto esattamente tra i decolli e gli atterraggi che abbiamo fatto siamo a 24 minuti di volo 24 minuti di volo che sono davvero tanti ragazzi io lo metto all'ombra guardate sta si sta aggiustando con la VPU cam ecco qua fermato i motori bene ragazzi questo è il test di volo che mi ha stupito di questo SG908 io lo consiglio a tutti perché parliamo di un drone bellissimo sicurissimo fatto bene che arriva al chilometro magari lo supera pure naturalmente con una spesa erisoria diciamo che con borsa e una batteria siamo sulle 130 euro comprando un'altra batteria 30 euro su 160 euro e voliamo per 45 minuti 46 minuti perché abbiamo visto che siamo quasi sui 24 minuti effettivi considerando che io ho registrato e scattato foto ho fatto le prove con le funzioni automatiche di volo i comandi sono perfetti Gimbal del radiocomando vedete la scritta PRO uguale a quella del 906 PRO perfetti non c'è dubbio quindi questo drone promosso potrebbe addirittura essere l'antagonista dell'Abzan Zino perché l'Abzan Zino diciamo che costa tre volte tanto rispetto a questo drone naturalmente vi ricordo che le prove di lunga distanza le faccio per test ma bisogna rimanere con il drone a vista e a massimo d'altezza di 120 metri a seconda dell'aria io qui ho un limite di 60 metri di altezza e quindi non vado oltre ragazzi che dire un drone perfetto vedremo le immagini ora in montaggio ma non ho visto naturalmente guardate lo Gimbal guardate guardate come si muove guardate perfetto guardate anche sul sullo Yoh guardate perfetto ragazzi io vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellino per non perdere altri video sotto la descrizione del video trovate il link per l'acquisto di questo drone che ora è in offerta ripeto a 120 euro circa con una batteria e lo zaino quindi affrettatevi acquistate il mio link e sostenete il canale condividete i video lasciate il like ma soprattutto condividete i video mi aiutate a crescere spargete la voce del canale Addicted2Fly noi cari piloti ci vediamo ai prossimi video e come dico sempre volate ma volate in sicurezza ciao 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 ciao